benedetta parodi sta per compiere 50 anni ed è in forma smagliante fisico tonico sorriso grande l'ex mezzo busto di studio aperto sa come godersi i piaceri della buona tavola senza fare grandi rinunce non va dimenticato infatti che la sorella di cristina parodi è un'ottima cuoca e proprio la passione per la cucina ha cambiato drasticamente la sua vita professionale e privata ma qual è il segreto di benedetta per non ingrassare la diretta interessata l'ha spifferato al settimanale confidenze porzioni piccole senza negarsi nulla insomma il motto di benedetta parodi è chiaro mangiare un po di tutto ma con moderazione ma non è finita qui la moglie di fabio caressa ha spiegato che almeno due giorni alla settimana mangia meno soprattutto nei periodi in cui tende ad esagerare come succede durante le feste nei giorni in cui mangia meno la giornalista conduttrice scrittrice preferisce mangiare frutta verdura e formaggi magri al bando carboidrati carne o pesce una scelta che secondo le ultime ricerche rinforzerebbe il sistema immunitario e aiuterebbe a stimolare il cervello benedetta non faccio mai diete drastiche anche perché quando mi sento un po appesantita posso preparare ricette leggere ma lo stesso appetitose per esempio un piatto unico con poca pasta condita con tre o quattro verdure che cucino in modo diverso lessate gratinate ovviamente la corretta alimentazione va accompagnata alla giusta dose di movimento benedetta parodi è appassionata di corsa che pratica con costanza e determinazione benedetta parodi continua con successo il suo percorso sul piccolo schermo ma anche in radio da settembre 2021 è al timone del format benedetta domenica in onda su radio capital ha inoltre pubblicato un nuovo libro di ricette in cucina con benedetta un volume adatto a chi ha poche idee ai fornelli ed è in cerca di creatività passare dalla conduzione di un telegiornale ai programmi di cucina è stato un vero e proprio salto nel buio per benedetta parodi che all'epoca è stata supportata solo dal marito fabio caressa e dalla sorella maggiore cristina parodi una scelta che si è rivelata vincente che ha cambiato la vita e la carriera di benedetta che ha ammesso che il giornalismo non è mai stato davvero la sua passione più grande